allora nel momento in cui non riesci a ottenere facilmente o comunque puoi anche non riuscirci anche impegnandoti molto il primo posto su google o i primi posti su google con il cosiddetto posizionamento organico puoi anche scegliere di pagare la piattaforma di pagare google per ottenere comunque visibilità in questo caso puoi utilizzare google adwords c'è una piattaforma pubblicitaria di proprietà di google che ti consente di ottenere il posizionamento sul sul rete di ricerca come funziona tu decidi sempre come anche già detto in un video precedente per le campagne pubblicitarie su facebook decidi un budget giornaliero anche in questo caso puoi decidere un budget giornaliero e scegliere anche le parole chiave con le quali vorresti essere trovato crei il tuo annuncio generalmente un annuncio anzi sul rete ricerca è sempre un annuncio di testo costituito da un titolo ed una descrizione e qualche altro dato e quando un utente effettua quella ricerca una ricerca per la parola chiave che tu hai scelto in funzione del tuo budget in funzione della concorrenza tu potresti comparire ai primissimi posti per esempio come primo risultato secondo risultato oppure all'ultimo posto in prima pagina in funzione sempre del di questo budget che tu hai individuato e del costo del click fino a questo momento tu non paghi nulla cioè compari se visibile ma paghi nel momento in cui qualcuno fa click su quell'annuncio nel momento in cui viene fatto click sul tuo annuncio tu paghi una quota che è variabile in funzione di mille parametri il cosiddetto cpc il costo per clic costo per clic che varia in funzione della concorrenza in funzione della parola chiave che hai scelto in funzione del punteggio di qualità di quell'annuncio punteggio di qualità che dipende a sua volta da tanti altri fattori cioè è un un argomento estremamente complesso per il quale è necessario andare a pagare comunque una web agency un un consulente esterno che ti possa gestire questa campagna oppure puoi fare come fanno tanti altri che si gestiscono da soli queste campagne non fanno altro sostanzialmente che prendere e buttare soldi sia google sia facebook sono delle campagne delle piattaforme pubblicitarie eccellenti perché riescono a andare a intercettare il pubblico di pertinenza è a ottimizzare al meglio le tue campagne pubblicitarie a condizioni che si sappiano utilizzare facebook è considerata attualmente la piattaforma più complessa fra le due nonostante sia partita dopo ma ha delle potenzialità mi avviso di gran lunga superiore a quelle di google un esempio su tutte quando tu ti colleghi vai su google è quel computer che va su google e cioè quella quella postazione non è detto che tramite quel computer si stia collegando in quel momento una specifica persona cioè può essere che lo stai utilizzando tu può essere lo sta utilizzando tua moglie può essere lo sta utilizzando tua figlia invece quando vai su facebook è l'utente perfettamente riconosciuto quindi facebook riesce a targettizzare molto meglio di google il pubblico però a sua volta google riesce a darti a mostrare il tuo annuncio pubblicitario esattamente quando c'è qualcuno che sta cercando ciò che tu hai da offrirgli cioè risponde alla cosiddetta domanda consapevole ho già fatto un video su questo vattelo a guardare lo trovi in archivio fra tutti gli altri video sulla domanda consapevole quindi sono piattaforme che hanno utilizzi diversi risultati diversi che hanno più o meno la stessa logica di base cioè tu scegli un budget quotidiano e sulla base di questo e sulla base di quanto spendi quotidianamente puoi andare ad affinare al meglio la tua campagna pubblicitaria oggi ti ho parlato delle campagne pubblicitarie su rete di ricerca nel prossimo video ti vorrei parlare invece delle campagne pubblicitarie su rete display che è una campagna pubblicitaria simile a quella di facebook ciao